È Simone Faggi, il nuovo assessore al sociale del Comune di Prato, con delega anche alla protezione civile. Per sostituire l'ammatissimo Luigi Biancalani, morto lo scorso 23 agosto dopo una lunga malattia, il sindaco Matteo Bifoni ha scelto quindi un altro fedelissimo, che sarà anche vice sindaco in carico ricoperto già nel primo mandato. Da un quasi babbo a un quasi fratello, in una situazione in cui c'è bisogno di partire immediatamente, prendendosi carico di un autunno che almeno all'apparenza rischia di essere piuttosto caldo. Penso di aver individuato la persona che ritengo in questo momento più capace. Nel secondo mandato invece Faggi ha prima avuto il ruolo di capo di gabinetto e poi è stato chiamato dallo stesso Bifoni a occuparsi della strategica nascita della Multi Utility Toscana, gestendo la delicata operazione di liquidazione del socio privato all'interno della compagine di Publiacqua e i successivi passaggi per creare il nucleo iniziale della nuova holding dei servizi pubblici. I due incarichi sono incompatibili. Di conseguenza Faggi dovrà dimettersi da presidente di Acqua Toscana, cosa che farà entro poche settimane quando potrà assumere in maniera ufficiale i nuovi incarichi in giunta. Avrò ancora qualche settimana a disposizione per concludere un lavoro, secondo me, strategico e importantissimo per il nostro territorio. Oltretutto comunque io resterò in una posizione come vice sindaco e mi farò anche un po' garante di quello che accadrà nei prossimi mesi, cercando di valorizzare quanto il nostro territorio merita. Per Faggi, quindi, questo ritorno alle origini si traduce in un abbandono della carriera manageriale nel recupero della sua anima politica. Attraverso di lui Biffoni rafforza proprio questo aspetto della sua giunta e mette in campo una persona che conosce bene la macchina comunale che quindi può essere immediatamente operativa. Non solo. Scegliendo il suo storico braccio destro, Biffoni riesce a non aprire altri fronti politici, Zittisci e dissidi interni al PD che si sono...